2011-2021 era il nostro obiettivo lasciare le casse del comune in maniera rosia più possibile. L'obiettivo è stato centrato dall'amministrazione guidata da Antonio Zaffiri. Il sindaco prossimo alla fine del suo mandato, in primavera ci saranno le nuove elezioni, unitamente alla sua squadra ha chiuso per la prima volta dopo dieci anni il bilancio comunale con un utile di un milione e cinquanta mila euro. Mentre il MEF, il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha certificato al comune di Cole Corvino un tempo medio per i pagamenti delle fatture a 21 giorni. La situazione però nel 2011 era tutt'altro che rosia con un'anticipazione di tesoreria di circa 700 mila euro con debiti verso imprese di cui dei MEIS per circa 4 milioni di euro e con grandi difficoltà a pagare gli stipendi dei dipendenti comunali così come spiega Paolo D'Amico. Abbiamo cercato di trovare degli accordi con i nostri creditori, abbiamo fatto dei piani di rateizzazione e quindi nel corso di questi anni abbiamo cercato di saldare tutti quelli che erano i debiti che venivano dalle passate amministrazioni e cercando anche di onorare quelle che chiaramente si generavano nel corso della nostra amministrazione. Noi ad oggi contiamo neanche 80 mila euro di fatture da pagare, abbiamo fatture da pagare che sono state messe dopo il 10 di dicembre e contiamo di chiudere questa partita entro il 15 di gennaio che significa che il comune il 15 di gennaio non avrà neanche una fattura del 2020 da pagare e tutto questo è stato fatto in questi dieci anni senza accendere alcun mutuo. Dopo aver raggiunto questo traguardo Cole Corvino è pronto a ripartire infatti negli ultimi mesi del 2020 sono diversi i cantieri avviati soprattutto nel centro storico mentre il primo gennaio dopo diversi anni è stata riaperta la chiesa madre di Sant'Andrea. Ed è proprio questo che noi vogliamo dare un segno di ripartenza, un segno di speranza e di futuro.